Il segreto, mercoledì 4 ottobre 2017, parenti serpenti, anticipazioni, torniamo a Beatriz che incontrerà Ismael e si dichiarerà interessata a lui, una bella trasformazione per la giovane, che stentava a parlare, il ragazzo, però, le spiegherà di non essere l'uomo giusto per lei, Camilla non riesce ad accettare la dipartita di Rogeli ed è distrutta le ultime parole pronunciate da Rogeli e riecheggiano nella sua mente la donna non crede si sia buttata da sola dalla finestra, Faye fa una promessa a Caridad e si prenderà cura di Leila anche se Francisca non intende a consentire infatti, donna Francisca non gradirà che la nuova arrivata si fermi alla villa, perciò le manderà via entrambe, vi annunciamo che da questo momento saranno davvero tanti guai per la povera Faye, prima parte, riunione alla locanda, Cristobal riunisce i cittadini di Puente e Ibieco alla locanda di Emilia per una comunicazione importante visti i suoi comportamenti precedenti in paese, tutti lo guardano impauriti e con diffidenza quale sarà il motivo di questa insolita convocazione da parte dello spietato ex funzionario governativo sono tutti curiosi di saperlo, ed intanto la circospezione è d'obbligo all'uomo ha dimostrato di essere capace veramente di tutto, il rientro di Cristobal in paese è stato una sorpresa per tutti, egli era stato infatti allontanato dal generale Primo de Rivera in persona, che lo aveva mandato in esilio a Fernando Po, in Nuova Guinea, ritornato a Puente e Ibieco grazie alle sue conoscenze, l'uomo ha subito cominciato a tramare contro il suo nuovo obiettivo, Severo Santa Cruz, siglando un armistizio con la sua nemica di sempre, Francisca Montenegro, seconda parte, timori e dubbi, la scomparsa improvvisa di Rogeli ha sconvolto tutti, Camila, oltre ad essere estremamente addolorata per la tragedia, è molto preoccupata, ella non fa che ripensare alle ultime parole che la donna ha pronunciato nel suo ultimo sospiro, la giovane, inoltre, non crede affatto all'ipotesi del suicidio, ella infatti convinta che il colpevole si nasconda e l'osmanantiale se potrebbe colpire ancora, Camila, infatti, non si è mai fidata di Esmael e le parole di Rogeli le danno molto da pensare, forse la governante non ha fatto in tempo a dire tutto quello che aveva scoperto sul giovane, ed è per questo che è stata fatta fuori, ultima parte, parenti serpenti, l'arrivo inaspettato di Caridad, la sua gemella, alla villa mette in agitazione Faye, ella, nel vedere la sorella, ha un atteggiamento inaspettatamente dimesso, con voce tremante le promette di prendersi cura di lei, donna Francisca è molto infastidita dalla presenza in casa sua della donna, per cui decide di cacciare via dalla villa sia lei che Faye, fra le due sorelle deve essere accaduto in passato qualcosa di piuttosto grave, Caridad è molto diversa da Faye, nonostante l'incredibile somiglianza fisica, e sembra quasi incolpare la gemella della sua condizione fisica, Faye, dal canto suo, sembra sentirsi in colpa per qualcosa, come se fosse responsabile nei confronti di Caridad e dovesse farsi perdonare qualcosa.